Un anno eccezionale per il turismo della Regione Campania in costante crescita grazie anche alle tante azioni messe in campo nel corso del 2017 che ci hanno fatto ottenere ottimi risultati. È il bilancio positivo che l'assessore al turismo della Regione Campania Corrado Matera traccia ai nostri microfoni in merito a quanto la Giunta Regionale Campana e il suo assessorato ha fatto per ridare centralità al turismo in Campania. Il turismo cresce in Campania non solo per la congiuntura internazionale ma cresce anche per tante azioni che abbiamo messo in campo. Abbiamo dato al turismo un ruolo diverso dal passato, un ruolo di grande centralità e di trasversalità. Abbiamo lavorato anche sull'integrazione territoriale, basti pensare al progetto delle tre certose, cioè tre grandi attrattori culturali che si raccontano insieme, per cui parliamo di Capri, Napoli e la Certosa di Padula. Abbiamo anche messo in campo delle azioni che ci portano alla diversificazione dell'offerta turistica, per cui non solo il balneare, non solo il culturale, ma anche il turismo verde, il turismo religioso, il turismo enogastronomico. E poi abbiamo fatto anche una grande azione che guarda al discorso della conoscenza del territorio attraverso un programma che sarà presentato entro il mese di gennaio e che permetterà di conoscere un po' tutte le strutture alberghiere ed extra, le presenze dei turisti, i prezzi e l'andamento. Andremo anche all'approvazione di un codice sul turismo e stiamo cercando anche di fare in modo che possano essere anche velocizzate tante pratiche. Tenga presente che io penso che questa è un po' l'impostazione sulla quale noi abbiamo lavorato, però sono tante le azioni che abbiamo messo in campo, ragionando con la cultura e ragionando con i trasporti. per esempio anche penso che un'altra grande iniziativa è stata quella di sostenere le vie del mare e dunque anche con questa operazione creiamo il collegamento tra i grandi attrattori e le aree interne.